Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video, oggi vi porto con me a Madrid. Un momento fatto, tre chilometri e comunque gli spagnoli sono veramente attivi perché alle sette e mezzo era già strapiena la piscina. Oltre alla piscina c'è veramente tanti altri campetti, c'è la palestra, poi c'è una chicca che quando me l'hanno detto ho detto wow, quindi rimanete fino alla fine del video che poi la proverò per voi. Buenas Dias, oggi siamo al Parco del Retiro, vi farò una corsetta, vi farò vedere questo parco che ho visto dalle foto, è veramente tanta roba, quindi adesso corriamo e cogliamoci questo parco. Grazie a tutti. Ecco a voi il Palazzo di Cristallo, stupendo. Dai, abbiamo trovato dove fare il triatma, il laghetto per correre non manca e via. Adesso vi porto in un posto che se non vi iscrivete al canale mi arrabbio, comunque sto provando le altre Thorin 7, queste qua, che è uscito un video la scorsa settimana che ho fatto in recensione, quindi andate a vederla. E niente, ma che dire, c'è veramente veramente tanta roba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Corsetta finita, circa 10 km, molto lenta, una sompresa turistica. Adesso rientriamo, mi aspetta una lunga giornata, però vi ho promesso una cosa, spero di riuscire a portarla. Quindi godetevi un po' di immagini di Madrid, un po' di video, è veramente stupendo come città. Io è la prima volta che ci vengo, fatemi sapere nei commenti voi se ci siete mai stati, se avete corso in questi parchi o se ne conoscete altri. Purtroppo domani verrò via, però ho sempre un giorno per riuscire ad andare in questo posto che vi ho promesso, quindi dai, la speranza è l'ultima a morire. Mi raccomando, ragazzi, per supportarmi vi dovete iscrivervi al canale, commentare, lasciare un like e seguirmi sulla pagina Instagram, in cui chi mi segue ha già visto che sono a Madrid. Ciao, a più tardi! Ciao, a tutti! Stiamo andando in palestra Ecco a voi la chicca di cui vi parlavo, una mini pista sopra la città di Madrid. Per questa palestra c'ha tipo quattro piani e adesso mi alleo un pochino, facciamo pure le sbarre. Non so, non c'è altro. No. Questa è la baby, eh? Una mini pista, una baby pista. Luca Borgiani da Madrid è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti